La giunta regionale preseduta dal presidente Marco Marsilio ha adottato misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni di montagna in base alla regge regionale 21 dicembre 2021 numero 32. La regione infatti al fine di contrastare il declino demografico in atto nelle zone montane più marginali promuove iniziative volte a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei piccoli comuni di montagna favorendo la natalità e incentivando l'insediamento di nuovi residenti che intendono trasferire la propria residenza in questi comuni. Approvato quindi per l'anno 2023 l'elenco dei comuni montani sulla base dei dati ISTAT aggiornati che presentano le seguenti caratteristiche popolazione inferiore a 3.000 abitanti e con un calo demografico superiore a quello della media regionale nell'arco degli ultimi cinque anni popolazione inferiore a 200 abitanti.